Sono iniziati con tanto di taglio del nastro i lavori per la chiusura e la bonifica definitiva della discarica comunale la torre di Poggio San Vittorino a Teramo. Una vicenda che attendeva da numerosi anni una soluzione connotata da pesanti risvolti ambientali, economici e sociali a carico della comunità e culminata anche nel crollo del 2006 che vide assolti tutti gli indagati. Si avvia il cantiere del risanamento ambientale totale della discarica, sappiamo una ferita enorme sia sotto l'aspetto ambientale ma anche economico finanziario. I costi che hanno pagato cittadini terramani per l'incapacità di gestione, per i ritardi sono stati enormi per quanto riguarda in particolare lo smaltimento del percolato. Oggi si avvia questo cantiere di chiusura con un cronoprogramma di 210 giorni e devo esprimere assolutamente l'orgoglio per questo risultato storico, che è un risultato di tutti, che abbiamo raggiunto. Nel mio ruolo di commissario ad acta, nominato nel 2019, devo ringraziare la scelta del precedente Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, di inserire le risorse a valere sul masterplan, risorse alle quali abbiamo aggiunto ulteriori disponibilità finanziarie del Comune. Finalmente parte un cantiere per il risanamento ambientale e soprattutto per la valorizzazione ambientale di quest'area. Adesso pensiamo a portare avanti questo cantiere complesso perché è una chiusura delicata, ma cominciamo a lavorare per valorizzare dal punto di vista ambientale, attraverso non solo la piantimazione di alberi ma veramente la realizzazione di un parco o comunque di tutta un'altra serie di interventi che il PNRR oggi consente per la valorizzazione anche energetica del territorio, un'area che può diventare da ferita ad area strategica per la città. Un iter che si è sbloccato in maniera definitiva dopo la nomina del sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, a commissario ad acta per la discarica alla torre. Soddisfazione anche da parte del comitato discarica alla torre che in 16 anni si è sempre battuto per mettere la parola fine a questa brutta storia. Sì, purtroppo dopo tanti anni arriva questa famosa chiusura definitiva sperando che sia veramente definitiva questa volta. È una vittoria, chiamiamola vittoria, ma la vittoria sarebbe stata dieci anni fa. Adesso ci accontentiamo, siamo contenti che riusciamo forse a vedere questo capitolo chiuso, questo brutto capitolo della politica terramana chiusa. Ovviamente il comitato controllerà i lavori passo passo. Per quello che possiamo sicuramente. Grazie a tutti.